Arriva il caldo estivo in Italia e scattano i primi allarmi per le temperature torri. Del bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute recentemente avviato per il 2024 segnala il primo bollino arancione per questo weekend. Le temperature stanno infatti salendo vertiginosamente, superando i 35 gradi, soprattutto nelle regioni e nelle città meridionali. Questa ondata di calore è dovuta all'arrivo dell'anticiclone africano. Per domani, domenica 9 giugno, è previsto un'allerta arancione a Bari e una gialla in 7 città del centro-sud. A Bari l'allerta arancione ha indicato temperature oltre i 35 gradi. Questo livello 2 su una scala di 3 suggerisce condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute, specialmente tra i più vulnerabili come bambini e anziani. Nelle altre città l'alerta gialla di livello 1 sarà in vigore domani. Le città interessate sono Ancona, Cagliari, Campobasso, Catania, Napoli, Palermo e Perugia.